Esordio vincente per la Nissa Rugby che al Marco Tomaselli batte il Trapani Rugby e conquista la prima vittoria stagionale. La formazione nissena vince con il risultato di 15-6 con tre mete marcate e solo due calci di punizione subiti dalla squadra ospite che hanno permesso alla squadra di Andrea Logelso di iniziare bene la nuova stagione.